Falsario è il nostro nuovo CD, CD nuovo dell'anno zero, questo titolo perché c'è un significato. Falsario è il brano che racconta e combatte la violenza contro le donne, per dire basta alla violenza sulle donne. Abbiamo scelto infatti di intitolare il disco così perché è comunque un disco 10 pezzi, tutto dedicato al mondo femminile. Anche c'è una canzone che si intitola Quanto bene mi fai, che è un ringraziamento ai nostri piccoli amici animali che ci aiutano nei momenti di difficoltà e quindi a tutti coloro che usufruiscono della pet therapy. Sono brani a cui noi teniamo in particolar modo. Poi come diceva Boz ci teniamo perché è proprio basato sul mondo femminile, che può essere amore, amicizia, purtroppo violenza. Quindi lo consigliamo anche perché è vario, cioè dalla canzone seria, importante, alla canzone che fa sorridere. Questo disco lo potete trovare in tutti i digital store, è scaricabile, è un disco veramente bello perché ci sono delle variazioni di musica che hanno lasciato essere fatte anche lui, devo dire. Dobbiamo anche dire che è cambiato qualcosa negli anno zero perché gli anno zero usciranno quest'estate con il loro gruppo live, quindi con dei musicisti, quindi diciamo gireremo un po'. Finalmente c'è un piccolo tour che naturalmente si intolerà a falsario come il nome di questo disco. Speriamo che le donne reagiscano ascoltando questa canzone. Speriamo sì, è una goccia veramente nel mare, ma se tutti mettiamo una gocciolina, è che diciamo... Magari funziona, magari questi falsari la smettono di farci del male.